Salve ragazzi e bentornati in una nuova battaglia tra i dinosauri e gli SCP Ragazzi, il video precedente non so com'è andato perché quando sto registrando questo video Il video l'ho già pubblicato su Youtube, editato Ma ve lo dico, mi sono molto divertito a registrarlo e editarlo Quindi io direi che oggi continuiamo la battaglia tra i nostri amati SCP e dinosauri La volta scorsa si sono qualificati moltissimi dinosauri che andranno a scontrarsi in un prossimo futuro Non sappiamo quando, quando completeremo tutte queste file Ma adesso direi di passare avanti con la nostra battaglia Dalla prima parte abbiamo un coccodrillone gigante che è SCP-3544 Veramente molto spaventoso perché lo selezioniamo, eccolo qua Dalla seconda parte invece abbiamo il Coelisaurus Un piccolo erbivore innocuo Chi dei due vincerà? Io sono sicuro che vincerà il coccodrillone Ma chi lo sa, può vincerà anche questo qui Quindi lo selezioniamo e corre anche lui all'attacco E fa la stessa cosa anche il coccodrillone Si sta allontanando, no, si avvicina E i due si combattono e alla fine, come ho detto, vinceva il coccodrillone Prossimo round abbiamo SCP-354414 Un grosso tentacolone gigante Con ciao Enderman estinguiti E dall'altra parte abbiamo il Coelorus Che è un carnivoro molto, mi sa, pare che era un carnivoro Si è un carnivoro Molto pericoloso Ma io sono molto debitore che vincerà questo qui Vediamo chi dei due vincerà Il Coelorus si dirige velocemente Verso SCP-3543 Viene catturato e viene ucciso Oh Era molto scontata come battaglia Adesso però abbiamo un altro SCP-3544 Ed è quello, il lupo di ghiaccio Che dovrà combattere il Compsognatus Chi potrebbe vincere tra il piccolo scaltro Compi e il lupo di ghiaccio Ovviamente vincerà il lupo di ghiaccio Ma chi lo sa Il lupo di ghiaccio si sta dirigendo molto velocemente Stanno lo... Ok Ha vinto molto facilmente il lupo di ghiaccio Beh, 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 beh Vedo che comunque gli SCP stanno recuperando il loro territorio Perché vedete che stanno recuperando molto di più gli SCP Prima stavano vincendo i dinosauri Adesso si vede che stanno... Si stanno recuperando gli SCP Ma adesso vediamo chi ce la farà tra SCP-354-16 Troppi SCP-354 Stanno lottando adesso Contro il Coritosauro Un Adrosauro gigante Forse vincerà il Coritosauro Chi lo sa Adesso lo selezioniamo e corre all'attacco E i due si combattono E sembrerebbe che ha vinto effettivamente il Coritosauro Adesso abbiamo però SCP-354-18 L'ultimo dei 354 Che dovrà sconfiggere il Deinotherium Che sarebbe una specie di grosso elefante preistorico Un parente del Mammoth Guarda, io sono convincente che vinca lui Ma chi lo sa? Eh, io non sono nessuno per parlare Potrebbe vincere anche l'Androide Combattono entrambe Riescono a lottare e ha vinto il Deinotherium alla fine Wow Eh, sì, sì, anche i dinosauri stanno Si vede che si stanno recuperando Ora però c'è uno scontro particolare Perché da una parte abbiamo il classe D Il personale soggetto esperimenti Contro Delta La velociraptor di Jurassic World Una dei tanti Che vediamo chi dei due vincerà Delta parte all'attacco Ma il classe D pare difendersi E senza dubbio vincerà il... Ecco, l'avevo detto Vinceva Delta Perché comunque il classe D era disarmato Ma se gli avessi dato qualche arma Probabilmente avrebbe vinto Quindi i prossimi scontri abbiamo più dinosauri Cioè più SCP che dinosauri Sebbene questi primi scontri stanno andando bene Vediamo un po' adesso chi ce la farà Tra SCP-160 Il drone predatore Un volatile che vola Contro il Dilophosauro Questo è uno scontro interessante Il Dilophosauro può sputare veleno E io comunque la butto sul drone Vediamo chi dei due ce la farà E l'ho selezionato Il drone attacca E il Dilophosauro comunque si difende I due si attaccano Però... Eh! Alla fine il drone ha vinto Però è stato avvelenato Vediamo se muore Mi sa di... No Non sta morendo Non sta morendo Comunque ha vinto il Dilophosauro Sì, non è morto Vabbè, alla fine comunque ha vinto il drone Beh, GG per il drone, raga Gli SCP stanno recuperando Si vede che gli SCP Stanno recuperando E quante ossa di dinosauri non ho qua dentro Poi mi metto l'impegno e le spacco Le tolgo tutte Ora però vediamo chi ce la farà Tra un altro volatile Il piccolo Dimorphodonte Dimorphodon come preferite chiamarlo Questo con... Raga, era qua Va bene, lo tolgo Comunque ha perso Contro, ragazzi La pecora elettrica L'Electrichip Secondo me vincerà la pecora elettrica Ma... Ah, che bello Sta volando Però non sta attaccando, eh Dimorphodon Dovresti combattere? I due si stanno... Eh La pecora L'ha ucciso Almeno mi ha risparmiato la fatica Di togliere il cadavere Va bene La pe... Raga, si vede veramente Che gli SCP stanno recuperando Quindi la pecora passa E il Dimorphodonte perde Ora però abbiamo Il Diplodoco Un possente sauropode Veramente possente Che, si, l'ho targettato Dovrà sfidare SCP-843-2 La mucca di semi, eh Secondo me Questa ha le piglia Le botte dal Diplodoco Vediamo un po' Il Diplodoco Si dirige molto lentamente Dalla mucca di semi La mucca di semi Non pare attaccare Ma adesso si dirige all'attacco E viene subito Sconfitta Da una gigantesca Codata Beh, si vede che Comunque anche i dinosauri Stanno recuperando Il loro terreno Io mi domando Comunque I sauropodi Chi potrebbe vincere Tra un T-Rex E un Brachiosauro Penso il Brachiosauro Ma non lo so, eh Ora però c'è uno scontro Che potrei Saper già Chi vincerà Abbiamo di nuovo Un altro sauropode Il possente Che ha fatto anche Mettere la pioggia Abbiamo davanti a noi Il possente Dreadnotus Talmente alto Che manco si vede La testa Fatemi vedere Guardate quanto è alto Per farvi capire Gigantesco C'è una testa piccola Che dovrà sconfiggere La donna delle paludi La donna delle paludi Non è in buona sorte Può attaccare a distanza Ma non è detto che vinca Se venisse qua Ok E adesso Targettiamo anche Che il possente Dreadnotus L'ho targettato Mi sa Sì Mi sa di sì No, no Attacco Ok L'ho targettato E stanno combattendo La donna delle paludi Spruz Ok Ha lagghiato un po' Ma a quanto pare Il dreadnotus Ha sconfitto La donna delle paludi Se riuscissi a rimuoverlo Questi sauropodi Si buggano Di tanto Questi troppo grandi Ok Ok a quanto pare I sauropodi Sono troppo grandi Sono un po' Troppo difficili Da rimuovere Comunque Adesso Abbiamo Ecco Un altro Velociraptor Di Jurassic World L'ultimo Probabilmente Che sconfiggerà Lo Humans Refuted L'uomo Pollo Vediamo chi vince Forse Io Ha vinto Ha vinto Lo Yuma Non ho visto Molto bene Lo scontro Ma ha vinto Lo Yuma Guardate Qua c'è tutta La carne Ragazzi In questa parte A quanto sembrerebbe Gli SCP Stanno recuperando Il loro terreno Beh Mi fa piacere Ora però Abbiamo La SWAT L'armatura SWAT Automa Una SWAT Senza corpo Che Che combatterà L'Edmontosauro Un Adrosauro Molto Molto Vediamo Chi vincerà Dei due Io Ti farei Ti fo Un po' La SWAT Ma chi lo sa Può vincere Anche l'Edmontosauro E a quanto pare Si ha vinto L'Edmontosauro Comunque si è visto Che La SWAT Di Colpi Glieli Ha tirati Mi fa comunque Piacere che Gli SCP Stanno anche Recuperando Il loro terreno Andiamo avanti Con i prossimi Round Che questi qui Sono belli Interessanti Con il primo Abbiamo la Heavy Assault Golem Contro L'Elasmotherium Secondo me Vinceranno queste Perché raga Queste hanno Un sacco di vita Ma Chi lo dice Potrebbe essere Che L'Elasmotherium Sconfiggerà La torretta Non lo sappiamo Si e raga È un parente Del rinoceronte Vediamo Chi Chi vincerà Lui corre all'attacco E la torretta Già lo sta Attaccando E l'Elasmotherium Io credo in te E si è fa E si è fatto Sconfì Ma Ma neanche L'attacca Rifacciamo Rifacciamo Lo scontro Tra i due Vediamo L'Elasmotherium Lo colpisce Un po' Ma A quanto pare Eh no Niente Raga La torretta Ha stravinto Cioè Ha vinto La torretta Era un È forte La torretta Raga È forte Ora però Abbiamo la Heavy Assault Golem Una torretta Più forte Che dovrà Combattere Il Gallimimus Gallimimus Io credo in te Vai all'attacco Corri Corri Come un forsennato Corri Gallimimus Io credo in te E Ok Almeno Ci ha provato Ci ha provato Ci ha provato Rifacciamolo Però da vicino Per vedere Chi dei due Potrebbe Effettivamente Vincere Il Gallimimus Attacca Ma Non l'attacca Non l'attacca La torretta Eh Il 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 Gallimimus Non attacca La torretta Gli ha tirato Un colpetto Raga Queste torrette Sono belle Forti Eh I dinosauri Non riescono A batterli Ora però Abbiamo Uno scontro Particolare Tra due Dinosauri Dalla prima Parte Abbiamo Il piroraptor Che sarebbe Appartenente Alla mod Degli scp Questo scp 143fr Che combatterà Un altro Dinosauro Il possente Giganotosauro Un giganotosauro Il più grande Carnivoro Mai visto Al mondo Ci vincerà Tantissimo Lui Ma chi lo sa Eh Io non sono Nessuno Per dire Boiate Potrebbe Potrebbe Anche Vincere Lo scaltro Piroraptor Che se N'è scappato Lo attacca Non riesce E non è riuscito A colpirlo Sarebbe stato Bello Se il piroraptor Fosse stato Di colore Rosso Però Vabbè Dai Almeno Il giga Passa Adesso Abbiamo Il manche Definitivo Con gli ultimi Lottatori E poi ci rivedremo Nella prossima Puntata Con chissà Quali lottatori In questa Adesso Ragazzi Dalla parte Delle scp Si squadra scp 4307 Praetoriano Electromarino Lo Resettiamo Un attimo Lo abbiamo selezionato Che combatterà Il Gaonlong Che è Un piccolo Dinosauro Con una cresta Riuscirà A sconfiggerlo Scopriamolo I due Si stanno Lottando E il 4307 Può produrre Onde Nettromagnetiche Si Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Il praetoriano SCP contro 307 Mi fa piacere Perché Lo stimo Un po' Questo dinosauro Adesso però Abbiamo SCP 059 FR1 Un drago Di blizzard Che dovrà Combattere L'errerasauro Un teropode Del Cretaceo Del lontano Cretaceo Chi dei due Vincerà La blizzard E subito Corsa Madonna E veloce E alla fine Però ha vinto L'errerasauro Per me Era normale Se vincessero Tutte e due Adesso abbiamo La ultima MASH Abbiamo L'ipsilofodonte Una specie di Topo Preistorico Che combatterà Il granchio Dei chirurgici SCP 098 Che Sta venendo L'ipsilofodonte Anche il granchio Dei chirurgici E a quanto pare Il Beh Alla fine Ha vinto L'ipsilofodonte Che comunque Però Visto che Il Il granchio Chirurgo Un po' Di manate Gliele ha Tirate Quindi ragazzi Questi sono I Lottatori Che hanno Vinto A quanto pare Questa volta A differenza Della MASH DP Prima Hanno vinto Più SCP Molti di più Di prima Quindi ragazzi Io direi Che ne vedremmo Delle belle Non so Perché Turanio Mi segua E la prossima Volta Si combatteranno Altri Lottatori Tutti Quelli Che sono Da questa Parte Per il Prostimo Episodio Facciamo 10 like Ragazzi Arriviamo A 10 like Se volete Che esca Il prossimo Episodio Anche se Non credete In voi Stessi Credete In me Perché Io credo In voi Da me Eletro Stessi È tutto Ciao